La Capitanata è una terra estremamente fragile dal punto di vista idrogeologico. Lo sanno bene i cittadini di Chieuti, che da tempo immemore hanno a che fare con una frana che si muove sotto il versante occidentale dell'abitato. Diversi sono stati gli interventi nel corso degli anni, ma non risolutivi. La terra però negli ultimi tempi ha accelerato la corsa verso il vallone, in modo preoccupante, creando un dislivello che ha raggiunto i 15 cm nel giro di 24 mesi. I segni del cedimento sono visibili ovunque, sul largo 4 novembre e via Fani. Ma al momento le case non sembrano essere lesionate. Ciò nonostante, il commissario di governo per la mitigazione del rischio idrogeologico di concerto con regione, prefettura e comune ha disposto l'evacuazione di 10 famiglie che vivono proprio sulla frana. A Chieuti l'annoso problema della frana si è riproposto con una connotazione di urgenza perché alcune famiglie saranno costrette a lasciare la propria abitazione. Sindaco di Cogliacoro, che cosa sta succedendo? Sta succedendo che la frana purtroppo ahinoi ha avuto un'accelerazione brusca e quindi ha aggravato la situazione che già era preoccupante degli anni passati e oggi ci troviamo e siamo costretti purtroppo ad evacuare la zona per mettere in sicurezza le persone che vi abitano dentro. Che sistemazione avete trovato per questi cittadini? La sistemazione abbiamo lavorato in maniera incessante in questi giorni per cercare di ripetere abitazioni dove poter inserire in tali abitazioni le persone che verranno evacuate da queste abitazioni lungo il costone della frana. L'amministrazione comunale contribuirà alle spese almeno per una prima fase? Assolutamente sì, come prima fase credo che sarà a carico nostro la prima parte di questa evacuazione con le relative sistemazioni per queste persone. Poi noi speriamo che da qui a un breve tempo riusciamo a mettere in atto l'altro piano che è il nostro chiaramente dell'amministrazione che è quello di poter confortare queste persone con abitazioni dove per loro potranno diventare delle abitazioni stabili e durature nel tempo. Nel frattempo però continuano gli studi e il monitoraggio dell'area? Certo, la seconda fase degli studi continuerà e si ultimerà credo per settembre dove poi alla fine verrà redatto un progetto ad hoc per questa frana. Queste sono le notizie che chiaramente ci dà l'asset regionale che in questo momento c'è la frana in gestione. Grazie a tutti.